che bellezza che ri bellezza alessandro ci siamo commossi ma poi devo dire io che ho letto il libro come molti naturalmente di voi ho ritrovato alcuni caratteri e altri sono veramente esplosi con questi attori mattia per esempio ha una forza incredibile veramente bello e veramente toccante e divertente alla fine e vedi hai usato hai usato una parola molto bella toccante che è proprio il frutto di quella cecità cioè noi in qualche maniera veniamo raggiunti quando ci liberiamo da tutti i pregiudizi che abbiamo da qualcosa che ci dice che qualcosa ci manca questo essere toccati dalla vita e quando uno è toccato dalla vita è segno che è ancora vivo io quando vedo queste avrò rivisto questo racconto teatrale non so quante quante volte continuo a commuovermi perché vedo che queste vite sono reali sono diventate più reali di quelle reali e la potenza della letteratura in qualche maniera di liberare delle energie che sono lì ma che sono in qualche maniera nella vita reale compresse mattia è un po il personaggio che rappresenta straordinario straordinario bene allora adesso andiamo all'altra parte della nostra giornata di questa domanda che abbiamo fatto insieme per capire l'appello a che cosa serve la scuola intanto ringraziamo naturalmente gli amici di scuola di s lunga ma come abbiamo promesso sin dall'inizio sono arrivate tantissime domande naturalmente adesso qui non le potremo fare tutte perché ovviamente non c'è il tempo ma partiamo dalle risposte sono arrivate anche tante risposte a questa domanda allora 84 ragazzi mi spiace non poter fare nomi e cognome perché 84 sono proprio tanti hanno scritto cosa serve la scuola a imparare istruirsi a prendere cose nuove 16 hanno risposto a trovare se stessi a crescere 23 a relazionarsi con gli altri 38 a garantire un futuro a imparare un lavoro poi a formare cittadini a educare a poco o niente solo 8 persone mi hanno scritto anche a poco niente come possiamo commentare queste risposte che sono arrivate da queste classi che speriamo diano l'avvio alla ribellezza ecco intanto mi piace questo fatto sarebbe bello che queste domande fossero l'inizio di un percorso che questi ragazzi affrontano in classe con i loro insegnanti e non rimanesse l'emozione di un momento l'aver consumato l'ennesimo spettacolo perché anche questo fa parte del rischio di una società ipervisiva noi invece quello che abbiamo visto è vite vite che vogliono essere liberate quando io partirei proprio da quegli 8 ragazzi io andrei a farmi due chiacchiere a tu per tu con quegli 8 guarda quegli 8 potrebbero essere la soluzione dei problemi della scuola odierna perché hai detto che la scuola serve a poco o a niente lì c'è la verità mentre molti di quelli che ti danno la risposta giusta la scuola serve a istruire a diventare buoni cittadini ti danno la risposta degli adulti hanno talmente introiettato la risposta giusta che te la danno ma questa non è la scuola a me fa io distingo tra scuola e addestramento ma pensate che noi in tanti in tante situazioni quello che facciamo è dire a dei ragazzi che cosa devono sapere e poi dopo un certo periodo verificare che ci ridicano quello che noi già sappiamo con quelle parole allora la rivoluzione della scuola forse dovrebbe partire da qui da quello che diceva Einstein che il professor romeo di scienze cita costantemente come se fosse un suo amico dice tanti professori perdono il tempo a cercare di scoprire ciò che gli alunni non sanno mentre un'interrogazione dovrebbe essere il momento in cui ci si diverte a scoprire ciò che gli alunni sanno ciò che gli alunni possono scoprire allora qui qui è il gioco il gioco bellissimo della scuola io quando esco da una lezione non ho imparato niente posso stare sicuro di non aver insegnato niente le domande le risposte che che tu mi hai citato interessante che dicono in gran parte che serve a istruirsi e in una minima parte a crescere no perché perché la nostra scuola oggi troppo spesso è il divorzio fra questi due elementi istruzione ed educazione il fine dell'istruzione è farsi una cultura il fine dell'educazione è diventare liberi cioè rendere queste persone autonome il fatto che loro separino e che la maggior parte ti dicono farsi un'istruzione non lo colleghino è solo una minoranza che dice a crescere a diventare autonomi a diventare liberi significa che c'è una frattura interna che noi adulti abbiamo creato a scuola quando è un'unica cosa il pensare che noi siamo lì solo per istruire non è il nostro compito educare è già una presa di posizione ed è una presa di posizione che ha degli effetti deleteri sulle loro vite perché tu stai dicendo in fondo che tu sei un cervello che va riempito nel momento in cui questo cervello viene ben riempito sarai un bravo cittadino sarai un bravo bambino ma noi non ce ne facciamo niente di bravi bambini noi abbiamo bisogno di persone che fioriscano perché viviamo in una cultura che ci sta massacrando sul fatto che la felicità sia avere risultati avere successo mentre la felicità come diceva il mio amico leopardi è il compimento cioè farsi consapevoli di una fragilità di una mancanza che non è come invece ci sentiamo dire attorno la nostra vergogna quel avere paura di non essere mai abbastanza ma quella è la benedizione ma se io per primo come insegnante non sono convinto di questa cosa quando nello spettacolo si vede che io mi metto la la fascia sugli occhi ma quella è una cosa che Gabriele vacci sta improvvisato sul momento io ero convinto di dover fare il mio discorsetto in mezzo a quei ragazzi invece che cosa è successo lui mi ha detto adesso ti metti questa dico come mi metto questa perché lui fa questo teatro in cui veramente le cose accadono in quel momento e la classe dovrebbe essere questo il luogo in cui le cose accadono veramente non il luogo in cui io controllo la realtà e come si diceva ora recentemente anche in una kermesse musicale no zitti e buoni in cui tutti devono stare zitti e buoni hanno vinto quelli che si sono ribellati contro il fatto che bisogna stare zitti e buoni perché non bisogna stare zitti e buoni bisogna fiorire che è il contrario di stare zitti e buoni e noi invece sei ore teniamo questi corpi lì vincolati ora è chiaro che in qualche maniera bisogna fare ma forse dovremmo ripensare il modo in cui questa scuola diventa di nuovo il luogo in cui educazione ed istruzione sono un'unica cosa allora qual è questa presa di posizione che riconcilia istruzione ed educazione il fatto che ogni elemento che io porto in classe deve servire a loro a diventare più uomini e più donne e questo può accadere solo se io so raccontare nella mia materia io non sto parlando di una scuola in cui mi faccio i fatti dei miei alunni è chiaro che quella è una finzione del romanzo che estremizza le cose ma chi leggerà il romanzo vedrà che il professore fa fare a questi ragazzi un lavoro che non hanno mai fatto in vita loro lo odiano a un certo punto ma nel momento in cui lui viene cacciato da scuola perché fa queste cose loro lo vanno a cercare a casa vogliono continuare le lezioni perché non lo può sostituire qualcuno per istruirli non possono guardare le lezioni online qual è il limite della dad perché non abbiamo sempre messo le lezioni online e poi ogni tanto verifichiamo ce ne siamo tutti tranquilli ci guardiamo le lezioni in pigiama belli comodi ogni tanto verifichiamo il gioco è fatto perché non è così perché siamo convinti i ragazzi sono convinti di un fatto che non si dà istruzione senza educazione e questo me lo deve manifestare chi ho davanti il maestro il maestro chi è non è solo colui che sa ciò di cui parla e anzi mentre ne parla dice che non ne sa mai abbastanza ma è colui che fa vedere che quelle cose che insegna lo hanno cambiato e lo fanno vivere meglio allora chi è uno che indica un desiderio non è uno che indica la materia è uno che indica di carambola la materia indirettamente perché dice quella cosa lì mi ha fatto diventare l'uomo che sono e questo è frutto di incontro con persone di relazioni io se devo dire perché oggi a 43 anni sono un uomo compiuto compiuto nel senso che so quello che sto facendo poi sono costantemente incompiuto se ho scritto questo romanzo è perché mi sono reso conto dopo 20 anni di insegnamento che quello cieco ero io se non l'avrei potuto scrivere questa questa lotta in me è possibile ed è sempre viva questo fuoco questo adolescere di cui parlavo prima non perché io abbia nostalgia dell'adolescenza ho a che fare tutti i giorni con adolescenti e poverini non vorrei mai tornare a quell'età ma mantenere sì quel fuoco e questo è dovuto a che cosa al fatto che ho incontrato dei maestri dei maestri veri noi alla fine io credo che sia anche tua esperienza ce ne ricordiamo uno due che possono essere delle elementari delle medie quello lì è bastato perché perché ci ha guardato noi invece viviamo in un mondo di vedenti non guardanti il mio cieco è un non vedente guardante e questo fa la differenza senti alessandro prima hai usato questa espressione siamo in sad non in dad ovviamente tante domande dei ragazzi sono arrivate proprio su questo aspetto riassumere prendiamo un insomma poi esempio che quella di arianna giuliani dell'iceo artistico mazzara di sulmona quindi andiamo in abruzzo bene questo mi fa molto piacere che cosa ne pensa della dad e vede degli aspetti positivi dico soltanto che alessandro d'avegna nell'intervista che abbiamo fatto sul corriere della sera per il lancio dell'appello ha detto una cosa molto forte che ha già scritto nella sua rubrica ultimo banco sul corriere della sera cioè le scuole erano già chiuse prima vogliamo spiegarle questa è una provocazione grazie arianna per la tua per la tua domanda ti immagino lì nella tua stanzetta che senti questa risposta ecco siamo solo noi due che ci stiamo facendo questa chiacchierata poi gli altri non so quanti quanti siano collegati in questo momento non ci importa siamo siamo noi due poi hai un nome bellissimo legato a un mito antico che io amo tantissimo che è quello del filo che nel labirinto tira fuori teseo che altrimenti sarebbe sarebbe morto quanto quanto sono importanti i nomi e quella quell'immagine del filo nel labirinto e forse è forse un po la risposta no il problema non è la dad il problema è la relazione perché teseo può entrare nel labirinto e affrontare il minotauro perché c'è qualcuno che fuori dal labirinto tiene l'altro capo del filo la dad in fondo forse entrare in un labirinto in cui non ci vediamo più non capiamo più chi siamo abbiamo perso i corpi ma in qualsiasi momento in cui teseo sceglie se andare a destra o a sinistra se perdersi se dietro l'angolo può esserci finalmente lo scontro finale con ciò che temiamo di più ognuno di noi ha il suo minotauro il minotauro è questo questo questa figura metà animale metà uomo che in fondo è ciò che noi temiamo di più nella nostra vita capire veramente chi siamo a quale parte della vita apparteniamo e lui perché può affrontare tutto questo perché un filo costantemente lo tiene fuori dal labirinto non ha paura di starci dentro perché qualcuno all'altro capo ha avuto l'invenzione ariana di dire contemporaneamente tu sarai fuori eppure sei dentro questo per me è proprio la sintesi dell'educazione della relazione vuol dire che in qualsiasi istante qualsiasi sia la fatica della vita che stai affrontando qualcuno sta tenendo l'altro capo quindi il minotauro può essere il più terribile il più sanguinoso può essere lo scontro più cruento poi anche perdere ma dall'altro capo c'è qualcuno che poi ti viene a recuperare ti viene a recuperare allora io perché provocatoriamente dicevo le scuole erano chiuse la dad non è che le abbia chiuse la dad è un'emergenza che più o meno necessaria per ovviare a questo questo problema in cui ci troviamo oggi ma il punto è se quel filo c'era prima che noi andassimo in dad cioè i ragazzi sentono di essere dalla parte di un capo del gomitolo e possono affrontare i loro minotauri autonomamente rendendoli liberi perché il filo non lega sei tu che nel labirinto fai le tue scelte sei tu che ti vai a cercare il nemico sei tu che lo devi affrontare io non mi sostituisco a te Mattia lo dice voi ci avete dato sicurezza noi quello che li rassicuriamo invece noi li dobbiamo sfidare dobbiamo dire entra nel labirinto fai la tua battaglia smettila di essere bambino e credere che tutto quello che desideri ti sarà dato perché questo è il pensiero onnipotente del bambino l'infante e invece comincia a dire il tuo nome ma perché può entrare nel labirinto e non averne paura la paura paralizza i ragazzi quante crisi di ansia e di panico ecco la dad sta mettendo in evidenza queste crisi di ansia e di panico sono emerse perché c'è la dad c'erano prima la dad ha messo a nudo quello che c'era già prima o quello che non c'era già prima se la relazione maestro discepolo e io amo chiamarla così maestro discepolo non era viva prima la scuola era chiusa perché la scuola è questa relazione la scuola non è addestramento zitti e buoni adesso imparate la cosa poi me la ripetete fra un po la scuola è quel luogo in cui si diventa uomini noi siamo in quanto uomini e donne diversi da tutti gli altri esseri viventi perché perché siamo soggetti a una legge che è quella della seconda nascita nasciamo una prima volta ma poi dobbiamo rinascere diventando pienamente quell'uomo e quella donna che siamo chiamati ad essere cosa urlano cosa urlano coloro che hanno vinto quattro ragazzi la recente kermesse musicale che sei fuori di testa perché sei diverso da loro cioè oggi gridiamo un bisogno di unicità attraverso la diversità ma questa è una richiesta di aiuto mi aiuti a essere unico perché poi invece quello che succede siccome ho troppa paura di entrare nel labirinto di affrontare il mio minotauro stiamo tutti un po fuori dal labirinto comportiamoci tutti nella stessa maniera e che dolore che sofferenza essere tutti uguali quell'uniformazione contro cui ci si ribella dicendo no io sono fuori di testa perché sono diverso da loro poi però questo rischia di rimanere un urlo rabbioso come fa il rock che non si traduce in azione a quel punto inizia la relazione che c'è dentro la parolazione cioè tu puoi agire se c'è qualcuno dall'altro lato che tiene il filo non ti non si sostituisce a te quello che mi è divertito scrivere nel romanzo è proprio questo che all'inizio mero romeo è convinto di essere un po lui quello che deve andare avanti a difenderli quando a teatro gavacis mi dice mettiti la benda e comincia il tuo discorso che cosa è successo che io mi muovevo nel palco e non vedevo più dove finiva il palco io sarei potuto cadere ma c'erano i ragazzi che avevano fatto l'appello che mi lasciavano fare il mio discorso ma quel discorso si modellava su che cosa sul fatto che loro mi dirigevano e mi dicevano stai attento qui potresti cadere e io sentivo il contatto di quelle mani che delicatamente mi portavano in un'altra direzione perché perché la lezione scolastica non è un percorso di metropolitana in cui ci sono le fermate il capolinea è una passeggiata in montagna in cui bisogna faticare per raggiungere un panorama ma il bello delle passeggiate in montagna qual è che ti fermi dici guarda guarda quella con quella forma di quella nuvola guarda quell'animale lei non so se l'hai visto ma guarda che interessante questa cioè ci si ferma e ci si arricchisce a vicenda di quello che gli altri vedono allora la mia provocazione le scuole erano già chiuse è una provocazione che sta a dire i ragazzi su questo dovrebbero interrogarsi noi docenti pure che la scuola è aperta solo lì dove la relazione è aperta lì dove c'è un'Arianna che sta tenendo il filo fuori dal labirinto allora i ragazzi sono pronti a seguirti ovunque ad affrontare qualsiasi problema qualsiasi paura perché i due grossi problemi della vita di un adolescente ma in generale di un adulto sono la paura e la vergogna la paura di non essere abbastanza la vergogna di essere sbagliati e se invece durante l'appello succedesse proprio questo di sentire su di sé uno sguardo che ti dice puoi non avere paura vai bene così questo non è sentimentarismo questo ce l'ha insegnato la fisica del ventesimo secolo la fisica dei quanti di cui omero romeo è un punto quasi un credente insomma la sua religione dice proprio questo che gli eventi che accadono accadono nella misura in cui noi entriamo in relazione con loro non esiste un mondo oggettivo quella fisica era una fisica che ormai è finita spero ora di non dire troppe fesserie i colleghi di scienze collegati avranno pietà di me ma io forse forse un po il dato per dire proprio questo che come come nella realtà è come quel bambino di pochi anni nella scuola elementare mi raccontava una maestra a cui viene chiesto la maestra prima elementare chiedeva oggi proviamo a dare la definizione di amore e i bambini sono incapaci di dare una definizione teorica delle cose ti danno solo quella pratica e un bambino risponde amore quando mia madre dice il mio nome perché come sta la bocca non sta da nessun'altra parte questo è il mito di arianna no certo poi si deve evolvere perché se rimane nella bocca della madre il nome poi il figlio non prende così diciamo la sua autonomia ma è interessante è protetto da come la madre dice il nome virgilio aveva detto quel verso bellissimo comincia bambino a conoscere chi è tua madre da come ti sorride allora fare l'appello che bello io la mattina mi metto lì e so che dieci minuti della lezione servono a questo a chiamarli uno per uno e guardarli in faccia e dire ma sai che ti sta bene questa pettinatura oggi ma come mai ti sei fatta le trecce oppure quell'altro ci ma stanotte hai dormito come che c'hai queste occhiaie sono piccole cose ieri era il compleanno di una mia alunna siamo in dad siamo abbiamo siamo partiti con tanti auguri a te ma sono cose piccole semplici che dicono che cosa che poi promessi sposi hanno senso perché ti danno uno sguardo più attento alla realtà io perché mi prendo cura di un testo sono un filologo cioè amo la parola perché mi alleno a prendermi cura della realtà altrimenti che cosa genererò alla fine di dei cinque anni superiori il piccolo filologo a me interessa generare un uomo una donna che sono un po più autonomi un po più liberi e questo avviene attraverso la cura la cura che innanzitutto io adulto ho nei loro confronti perché perché un insegnante faccio l'esempio il mio insegnante di lettere lo citavo lì nel racconto ha fatto questo io lo racconto sempre alcuni l'avevano già sentito ma è quel bene con la b minuscola che ti cambia la vita quel giorno in cui quell'insegnante tra l'altro ha un profilo instagram per verificare tutto quello che vi dico è vero andate su instagram cercate mario franchina ha fatto 80 anni tre settimane fa quest'uomo ha un profilo instagram in cui continua a fare quello che faceva con me negli anni 90 una mattina si presenta e mi dice alessandro vieni qua quando un professore ti chiama a tu per tu non è bellissimo è un problema in genere ti deve dire cose brutte e ha tirato fuori dalla sua borsa il suo libro di poesia preferito mi ha detto questo è il mio libro di poesia preferito te lo presto te lo leggi me lo devi restituire fra due settimane erano le poesie di un poeta tedesco romantico difficilissimo io non ho capito niente di quel libro ma ho capito una cosa che qualcuno si fidava di me più di quanto io mi fidassi di me e in quelle due settimane sono diventato insegnante perché ho detto voglio fare la stessa cosa con gli altri ma sono diventato più uomo più libero libero viene dal latino vuol dire figlio e quando tu sai di appartenere a qualcuno che da quell'altro capo c'è qualcuno che tiene il filo tu devi affrontare la vita e quel qualcuno ti dice non ti preoccupare non avere paura non c'è niente di male ad avere paura non c'è niente di male a vergognarsi di come sei quella fragilità è la tua forza ecco questo risponderei ad arianna direi che arianna ha avuto una risposta molto profonda anche soprattutto perché sei partito dal suo nome e siamo arrivati poi al filo senti invece adesso andiamo a gubbio liceo classico mazzatinti con pietro lilli seconda a e ti fa una domanda personale secondo me interessa un po tutti perché ricordiamo che quando hai detto quanti siete collegati sono decine di migliaia ci sono non soltanto allievi ma ci sono anche insegnanti maestri come tu preferisci chiamarli e pietro ti chiede lei è mai capitato di essere un insegnante cieco che bella domanda pietro pietro nome pietro gubbio gubbio sono stato una sola volta bellissimo posto gubbio è bellissimo bellissimo una delle cose che mi stupisce di tanti dei miei studenti che magari sono stati a miami e non sono stati mai in umbria ecco questo fa parte diciamo di quell'essere vedenti non guardati bravo bravo potremmo così rinnamorarci un po del nostro paese così facendo un po di giri vabbè comunque chiusa la parentesi caro pietro il tuo nome dice forza dice roccia dice qualche cosa su cui si può costruire quindi io ti auguro che sia così e la tua domanda lo manifesta il bello il bello delle domande dei ragazzi sai qual è che non fanno domande a te fanno domande a se stessi poi ascoltano quello che tu dici per avere dei frammenti che serviranno a loro a darsi la risposta quindi in realtà io un po credo se l'avessi qui a tu per tu pietro che pietro mi stia chiedendo come si faccia a sopravvivere quando si scopre di essere ciechi allora caro pietro io questi i romanzi sono sempre autobiografie ma attenzione a differenza delle biografie degli storici che riguardano il passato sono biografie che riguardano il futuro la caratteristica del romanziere che scrive biografie di cose che ancora non esistono e le scrive proprio per farle cominciare a esistere l'arte è quel luogo in cui noi rendiamo giustizia alle cose quando le cose vengono mortificate c'è un famoso artista che dice che dopo che che van gogh ha dipinto i girasoli sono i girasoli dei campi che imitano quelli che ha dipinto van gogh ecco allora questo dare giustizia alle cose io non è che come insegnante sono mi sono sentito cieco io come insegnante mi sono scoperto cieco dopo tanti anni che ero convinto di sapere fare questo mestiere mi sono reso conto che bisogna accostarsi al mistero della vita delle persone con un tatto straordinario perché ero convinto questo è il narcisismo che colpisce ogni insegnante giovane credo io all'inizio ero un po' invasato dall'immagine alla Keating che è stato uno dei motivi l'attimo fuggente per cui sono diventato insegnante dice io voglio fare come questo ma appunto qual è il problema di Keating che è seducente cioè porta a se stessi mentre l'insegnante è colui che conduce cioè si va insieme verso la cima la quella camminata di cui di cui parlavo prima perché perché il seduttore quello che fa è che ti dà un godimento sempre e comunque sul momento ma poi quando lui scompare tu rimani solo e non sai che fare allora devi cercare altro godimento e vai di nuovo da lui per essere rassicurato no no il vero maestro è colui che ti mette in crisi e crisi è una parola greca bellissima Pietro tu fai il classico crisi è la parola che i greci utilizzavano per indicare quell'atto che i contadini facevano per separare il grano dalla pula quello che è essenziale da ciò che va bruciato quello che serve a fare il pane per nutrirsi è quello che invece serve a fare un fuoco di un attimo che sparisce subito il vero maestro è quello che ti mette in crisi se voi uscite da una lezione non siete andati in crisi ma quella lezione a che cosa è servita vi è servita a capire che cosa è passeggero che cosa è essenziale se non è servita a questo vabbè ma insomma io mi ricordo anche qui il mio insegnante di lettere il sabato ogni tanto ci faceva ascoltare la musica libero da questa ossessione del programma il programma era l'ultimo anno l'ultimo anni i professori sono ossessionati dal programma ma sono ossessionati dal programma non tanto perché bisogna fare un sacco di cose nel minore tempo possibile quello c'è anche ma perché temono di fare brutta figura con i colleghi che poi interrogeranno i ragazzi ma noi a cosa guardiamo ai programmi o alle vite ma non interessa che che questi sappiano bene leopardi perché leopardi li aiuta a diventare più uomini e più donne più liberi più autonomi o leopardi perché devi sapere a memoria le tre fasi del pessimismo qui si gioca la partita e quell'insegnante ci faceva ascoltare beethoven per farci capire cos'era il romanticismo e io mi ricordo in questa palermo torrida che è appunto il sabato queste classi piccole e queste note del di una sonata di beethoven ascoltate con un mangianastri no era l'altro millennio no ti ricordi c'erano le cassette queste cose antichissime le trovate nei musei se andate a visitarli e io non mi ricordo la spiegazione sul romanticismo io mi ricordo beethoven in classe il sabato cioè l'indicazione di un desiderio dice guardate io ascoltando questa cosa ho migliorato la mia vita sono diventato più libero io quel giorno ho capito che beethoven resta lì beethoven non è passeggero che io non mi posso mai del tutto identificare con ciò che sento e con ciò che penso perché è troppo poco e beethoven mi dice questo dice guarda io sono rimasto qui c'è di più c'è dell'altro e allora caro pietro non solo mi sono sentito troppo poco cieco per tanto tempo ma adesso quello che ho scoperto che l'unica condizione vera per essere un buon maestro è rimanere in questa condizione di cecità perché questo mi obbliga a prendere posizione nei confronti della realtà così come la fisica ci insegna che chi fa l'esperimento è parte dell'esito dell'esperimento se io guardo se io guardo in un certo modo un alunno in qualche maniera quel mio sguardo diventa poetico e profetico del suo futuro io non so quale sarà il futuro nel labirinto ci devi andare tu ma io ti ho messo in condizioni forze di avere un filo che ti dice ok fai la tua parte e ricordo qui a questo proposito un filo che per me è sempre fortissimo e sta sempre lì proprio a proposito di cose che anche se passano diventano essenziali perché ho avuto come insegnante di religione della scuola dove andavo il liceo classico vittorio emanuele di palermo il professore di religione era padre pino puglisi un uomo che è morto per le cose che diceva in classe per quanto credesse nelle vite dei ragazzi non solo quelle della scuola ma quelle di quel quartiere in cui l'hanno ammazzato e quando hanno chiesto al suo assassino durante il processo perché l'avete ammazzato la sua risposta è stata perché si portava i picciriddi quiddu che è tradotto è perché si porta portava i bambini con lui ecco il segreto non essere seduttore ma con se li portava con lui verso dove verso una vita più grande più libera diversa e per questo l'hanno ammazzato perché per la mafia un sacerdote che fa il torneo di calcio fa le cose che fa un sacerdote nel quartiere è pericoloso tanto quanto un falcone un borsellino perché li rende liberi cioè alla latina figli e ritorniamo al discorso di prima ma forse per per essere padri di qualcuno per fargli sentire questa appartenenza devi renderlo libero dalle tue dalle tue aspettative chi chiede a un padre che cosa vuole per il proprio figlio se sente il padre rispondere che diventi notaio che dice vabbè papà lascia perdere lasciami in pace fai un'altra cosa io credo che qualsiasi padre a questa domanda risponda io voglio che mio figlio sia felice che fiorisca che è un'ammissione di che cosa dell'incompiutezza della vita che però ha già dentro una chiamata al compimento allora tu chi sei perché dicevo prima prima pensavo che loro fossero il pubblico e poi ho scoperto di essere io il pubblico perché tu chi sei uno che semplicemente si mette lì e prova ad aiutare a crescere quel punto quella pianta che ha già in sé tutte le potenzialità tutta l'energia per realizzare l'unicità che ha dentro senti c'è una domanda bellissima che va proprio al cuore sia del libro che dello spettacolo ma anche della vita e di quello che scrive alessandro d'avenia viene da emma g non dice il cognome peccato ma la salutiamo dell'istituto comprensivo bossi andiamo a busto arsizio e dice che cosa intende lei per classe pensa che sia un insieme di alunni tutti diversi oppure una cosa sola bellissima domanda bellissima domanda emma grazie e allora qui dobbiamo essere rapidi perché il tempo stringe io sono logorroico come professore di italiano quindi abbiate pazienza e allora la parola la parola classe è una parola che viene dal gergo militare che appunto originariamente non era altro che quella compagine di chi poteva permettersi l'armatura io lo dico per andare alla guerra e chi poteva permettersi se lo ci andava per difendere gli altri quindi c'è un elemento di andare in guerra ma per proteggere chi non può permettersi l'armatura quindi secondo me c'è un elemento della classe che è questo essere compatti insieme per difendere qualcosa e cosa va difesa l'unicità di ciascuno quando la classe invece diventa il reggimento noi diciamo intrupparsi diventa il luogo in cui io mi nascondo mi cielo e non cresco nella mia unicità allora non è più una classe diventa semplicemente un reggimento militare e quello serve a poco pensate che la parola classicum indicava proprio il poi è diventata la flotta tutte queste evoluzioni della lingua ma classicum era la tromba che si arriva a chiamare alla adunata tutti quanti allora mi immagino questa campanella la mattina che un po' fa questo ti chiede ma tu ci sei o non ci sei ci stai o non ci stai a questo gioco della vita ed è un gioco serissimo ma è un gioco questa è la cosa bella cioè come dice l'ultima ragazza dell'appello no aurora dice bisogna fare come i clown cioè noi ci proviamo come i trapezisti come gli equilibristi come i domatori a fare le cose perfette ma poi in realtà non ci riescono mai e allora sarebbe bello entrare in questa dimensione in cui ci proviamo a fare le cose bene il bene quel bene piccolo che abbiamo portato di mano e poi quando caschiamo per terra un altro ci solleva un altro si fa una risata ma non per mortificarci ma per dire dai continuiamo insieme allora l'immagine che userei Emma per la classe è quella che ho utilizzato anche nel racconto teatrale dell'orchestra in cui ogni strumento è necessario ogni strumento ha il suo timbro ogni strumento serve alla sinfonia ma se noi prendessimo su uno spartito la linea musicale che riguarda solo il singolo strumento potremmo addirittura sentire delle stonature delle cose che non capiamo perché ci sono delle pause dei momenti in cui quello strumento non deve far niente deve aspettare è il momento in cui stare in silenzio crescere soffrire in silenzio perché momenti della vita sono così e invece noi viviamo in un mondo che ci dice la felicità è sempre qualche cosa che deve arrivare quindi tu più affretti la vita più prima o poi la troverai questo è un inganno il progresso nella felicità è un inganno non c'è progresso nella felicità la felicità è nell'istante nella misura in cui tu apri relazioni generative con il mondo e con le cose e quindi ci sono momenti in cui lo strumento deve stare in silenzio deve imparare a stare in silenzio il nostro rapporto con le cose e le persone è distrutto, destrutturato dal fatto che noi abbiamo un rapporto destrutturato col tempo pensiamo che la felicità deve sempre arrivare allora la carriera abbiamo trasformato l'idea di lavoro meravigliosa che è questo prendersi cura del mondo e trasformarlo ampliarlo farlo fiorire in carriera in carriera ma vi rendete conto di come usiamo le parole c'è una cosa in cui tu devi correre avere trasformato il lavoro in carriera è una secondo me delle paure delle angosce che questa generazione ha anche perché il lavoro non c'è e quindi io verso cosa corro? Verso un muro? E mi vado a sfracellare? Allora calma, calma, niente fretta ma chi di noi si gode un brano musicale accelerandone la velocità? Dice guarda ho mezz'ora per ascoltare la musica facciamo così, te la faccio sentire a velocità doppia così ascoltiamo più pezzi, dice scusa? No, ascoltiamo quelli che riusciamo ad ascoltare. Allora la classe è questo luogo in cui si rispettano i tempi dello spartito si rispettano i tempi di ogni strumento perché lo diciamo in italiano sembra un luogo comune ma è una verità di cui oggi ci dobbiamo rimpadronire dare tempo al tempo vuol dire consentire alle persone di riappropriarsi della propria unicità e ognuno ha il suo tempo quindi la classe è quel luogo in cui un po' a fisarmonica ci sono questi momenti in cui uno va più avanti uno va più indietro e il maestro deve gestire questo traffico, non ci riesce, ci prova e alla fine però chi ascolta ed è quello che succede nel romanzo sente il miracolo della sinfonia perché? Perché la vita è più grande lo spartito è già stato scritto, Beethoven è già lì. Allora nel momento in cui secondo me loro voi percepite che noi siamo lì con voi in una cosa comune, siamo al servizio della vita succedono cose grandi quindi la classe come orchestra e in ogni orchestra può succedere che qualcuno faccia degli errori e non succede assolutamente niente perché viva i clown. Viva i clown. Allora siamo arrivati praticamente alla conclusione purtroppo il tempo è finito ma volevo chiudere e chiederti un commento breve, fulminante con una risposta, una risposta bellissima che arriva una risposta che poi non è neanche a questa domanda a cosa serve la scuola, ma mi è piaciuta molto che viene da Federico Piccone, liceo scientifico Einstein in Milano e dice spesso i problemi e le difficoltà di noi ragazzi vengono visti come piccole preoccupazioni inutili mentre per noi questi problemi sono davvero complessi da superare. Quanta verità c'è in questo? Ed è il motivo per cui a me colpisce, io ho ricevuto alcune critiche su questo romanzo che mi dicevano ma i ragazzi di oggi non parlano così che è la tipica critica superficiale dell'adulto che non sa ascoltare perché io è chiaro, a me non interessa fare il romanzo realistico sul disagio del giovane di oggi quello uno apre il telegiornale, vai in giro per strada, c'è bisogno degli scrittori per questo il punto è creare quel realismo simbolico che ti dice se quel infante fosse un fante cioè avesse le parole per dire quella complessità di cui sta parlando lui come te la direbbe? Allora è chiaro che il ruolo dello scrittore è quello di provare a dare voce a chi voce non ha appunto quello che dicevo prima, delle biografie che aprono il futuro allora come si chiama questo ragazzo? Federico Piccone di Milano bellissimo questa cosa di Federico è proprio l'idea che la cosa piccola è esattamente quella importante io ho visto ragazzi fiorire nel momento in cui mi raccontava uno io chiedevo, senti ma in questi anni di scuola qual è stato il momento più bello del rapporto con tuo padre? un ragazzo di 18 anni risposta, il giorno in cui vedo suonare il cellulare alle 3 e mezza di pomeriggio mi spavento, dice mio padre, il suo padre è un avvocato, di grido, è importante vedo questo telefono che suona e dico papà che succede? niente, volevo sapere come stessi allora lì si gioca la partita lì si gioca la partita e lui ha ragione quando noi sopravvalutiamo il dettaglio, il bene con la b minuscola un ragazzo si sente importante perché la chiave educativa con gli adolescenti non è che sappiano di essere voluti bene quello lo sanno ma che si sentano voluti bene è il sentire una cosa leggermente diversa dal saperlo a teatro, in quello che avete visto, succede esattamente questo quei ragazzi fanno questo tipo di teatro bellissimo che Vacis si è inventato con loro in cui le cose accadono sul momento quella cosa lì è andata in scena una volta sola e quella se l'avessimo rifatta veniva diversa i movimenti che loro facevano sul palco erano i movimenti che accadevano in base alle cose che gli altri dicevano e quindi è veramente la rappresentazione fisica di questo il che vuol dire? che quel piccolo movimento anche stupido che sta facendo quello in quel momento costringe gli altri a prendere attenzione quando Mattia si mette a camminare su le poltrone io ho detto che sta facendo questo è pazzo, adesso si rompe una gamba ma è che lui era entrato talmente dentro il suo personaggio che aveva bisogno di fare questa cosa di sollevarsi sulla vita come le dice lui con la metafora, c'è altro, c'è altro e gli altri cosa hanno dovuto fare? dice questo si rompe la testa si sono messi lì a sorreggerlo e lo facevano, diventavano la rete di protezione questo è l'accadere della vita perché il teatro è così potente e questi teatri chiusi oggi ci fanno così male perché ci ricordano questa cosa che assomiglia tantissimo alla vita io credo che non ci sia niente come il teatro che in questo momento assomiglia alla scuola in fondo forse la scuola io dico sempre l'insegnamento è una branca della drammaturgia perché è quel luogo in cui le cose accadono proprio perché si è in relazione bellissimo, benissimo grazie, grazie Alessandro D'Avegna grazie naturalmente alle decine di migliaia di studenti di maestri, come piace dire a te quindi non insegnanti, maestri grazie davvero Alessandro D'Avegna con l'Appello l'Appello, un romanzo Mondadori e naturalmente spettacolo teatrale di Gabriele Vacis noi ci vediamo al prossimo incontro di Fondazione Corriere buona ribellezza a tutti grazie al prossimo incontro di Fondazione Corriere